Misconero fa tappa nella città della spiaggia di Velluto, questo il terzo appuntamento della decima edizione in programma il 21 luglio. Organizzata da Ancon Grafica con il patrocinio di Confartigianato Imprese Ancona, Pesaro e Urbino, Misconero, oltre ad essere un concorso di bellezza, vuole promuovere il territorio e le imprese locali. Al centro proprio le donne, donne che con il loro impegno fanno la differenza nel mondo del lavoro. Le donne sono le protagoniste e Confartigianato Donne Impresa vuole proprio promuovere la donna come impresa e fare anche delle iniziative per conciliare la vita e il lavoro. Abbiamo anche delle imprenditrici che nella difficoltà che hanno avuto in questo periodo anche dell'alluvione, che si sono contraddistinte, che verranno premiate e questo è anche un volano per dare un'ispirazione a noi imprenditrici per fare sempre meglio e anche per nuove lavoratrici per iscriversi come impresa. Noi sosteniamo iniziative come questa perché crediamo che possa dare visibilità alle nostre imprese artigiane e comunque alle nostre produzioni del territorio di eccellenza. E comunque crediamo che possano rendere anche maggiormente attrattivo il territorio dal punto di vista turistico. Visibilità al territorio, alle attività artigiane e alle produzioni di eccellenza delle imprese. Ci sono le marche a fare da sfondo all'evento in una cornice come quella di Senigallia. Sì, eventi come questi, come Miss Conero che è una kermess itinerante, ci permette di valorizzare i vari territori. In questo caso siamo a Senigallia e questo evento arricchisce l'offerta turistica di una città che è già di per sé estremamente turistica ma anche di tutto l'entroterra che fa riferimento a questa città. Era necessario quest'anno, abbiamo fatto una stagione estiva particolarmente ricca, soprattutto a livello comunicativo perché dovevamo lasciarsi alle spalle quello che era successo. Momenti di moda e spettacolo ma soprattutto la premiazione di donne che si sono contraddistinte nel campo dell'imprenditoria, della cultura, dello sport e del sociale. Madrina della serata sarà Matilde Brandi. Quest'anno nuova tappa a Senigallia come alcuni anni fa e sì, abbiamo Matilde Brandi che come al solito ci accompagna siamo sempre diciamo affiancati da lei in quanto grande professionista, ballerina e donna di spettacolo. La tappa senigalliese sarà ospitata nell'ambito del premio Donna Penelope, premio che si ispira alla celebre scultura di Penelope ad opera di Gianni Guerra. Dopo una bellissima chiacchierata abbiamo individuato questo nome, questo titolo, premio Donna Penelope di Senigallia, quindi sarà un evento assolutamente bellissimo. Per Confartigianato Imprese Ancuna, Pesaro e Urbino, il connubio premio Donne Penelope e Miss Conero va nella direzione di valorizzare tutte le donne con le loro aspirazioni e desideri, dando un riconoscimento pubblico a quante si sono distinte nei loro ambiti. L'attesa ora è per il 21 luglio, il ricavato andrà in beneficenza.